Manca una settimana esatta, tra sette giorni il nuovo Giarre 2016-2017, il primo dell'era Nirelli e sarà a sudare in campo. Il presidente in testa al gruppo ovviamente. Chi conosce Giancarlo Fichera, l'allenatore del Giarre del nuovo corso, sa benissimo che è un maniaco della parte atletica di cui cura ogni dettaglio. In questi giorni, insieme a Saro Patti, che oltre a essere giocatore e componente del direttivo della società, sarà quest'anno anche una sorta di assistente per il tecnico, Giancarlo Fichera sta preparando il piano di lavoro per i primi 15 giorni. Fichera e Patti dovranno decidere quando iniziare il fondo e il lavoro aerobico tra Milo e Sant'Alfio. Questa settimana già qualcosa potrebbe essere reso noto dalla società anche per il calendario delle amichevoli che i gialloblu dovrebbero affrontare prima di Ferragosto.